Amici di Youtube e di Instagram, buon pomeriggio a tutti quanti, buon pomeriggio a tutti e benvenuti al consueto appuntamento con l'edizione giornaliera di oggi. Mi raccomando ragazzi, dalle analytics di Youtube Studio e poi da tutte le statistiche del canale. Perché viene all'occhio che la maggior parte di voi che state guardando le edizioni giornaliere, che seguite il canale, però la maggior parte non è iscritta a questo glorioso canale. Beh, la mia domanda è lecita, cosa state aspettando? Mi raccomando ragazzi, un like e un'iscrizione totalmente gratuite ovviamente, allo stesso prezzo di Cyanoglu e Turam. Buon pomeriggio a tutti quanti e buon lunedì, buon lunedì 7 ottobre, inizio di settimana a tutti quanti. Si chiude la giornata di campionato con i passi falsi, clamorosi di Juve Milan, sicuramente con tantissimi episodi arbitrali che ormai non ci danno più una visione dettagliata su quello che è il calcio di rigore. Perché tra la partita della Roma col Monza, tra Juve Cagliari e il Milan ieri sera, ormai non si ha più una chiara sensazione di cosa sia, di cosa voglia dire fischiare un rigore. Abbiamo visto dei rigori imbarazzanti dati, rigori imbarazzanti non assegnati. Insomma ci vuole chiarezza perché si sta secondo me buttando via una parte di calcio che è un tesoro inestimabile e viene assolutamente defraudato e condizionato da gestioni arbitrali secondo me molto molto inadeguate, non all'altezza e si riconferma un'altra volta il non problema della tecnologia VAR ma il vero problema è una classe arbitrale che non è secondo me all'altezza di questa importante tecnologia che come il VAR che permette di limitare certi errori. Ma non vengono limitati perché c'è un regolamento pieno pieno di opere confusionarie, di dettagli che mandano in confusione l'arbitro, però bisogna dire anche che i direttori di gara in questa giornata si sono superati nella confusione e veramente nella gestione errata di tante situazioni di gara. Detto ciò, insomma, ieri sera Pairetto dopo la partita l'hanno visto piangere nello spogliatoio, l'hanno visto piangere per la sconfitta del Milan, ma ieri un arbitraggio indegno, si può classificare così con tutto il rispetto ma assolutamente ieri si è vista una partita, quella chiaramente tra Fiorentina e Milan che ci dice tanto, ci dice tanto sulla classe arbitrale innanzitutto perché fischiare un rigore come quello di Reinders, della spinta di Ranieri a Reinders, se quello è calcio di rigore allora mi devi dare pure, devi dare il rigore ai gobbi sulla simulazione clamorosa di Konsei Sao perché io sono per i rigori chiari, per i contatti seri. Cioè se adesso un minimo tocco è calcio di rigore, allora sui corner e sui calci piazzati qualsiasi tocco sono 50 rigori. Cioè bisogna fare chiarezza. Quello di Ranieri a Reinders non è altro che un contatto di gioco, non si può parlare di una spinta o di uno sgambetto in corsa, non si può parlare quello di Konsei Sao di un rigore da dare, di una vergogna inaudita e clamorosa. Quello sicuramente è un episodio di simulazione dell'attaccante portoghese giustamente sanzionata poi con il secondo giallo. Poi delle chiacchiere che fa Tiago Motta dopo la partita, che si mette a dire che è così, crei un precedente. No, il precedente c'è già perché io mi ricordo cinque anni fa il rosso a Sanchez contro la Sampdoria, viene già ammonito, fa una simulazione clamorosa e viene espulso. Poi l'Inter quella partita la vinse se non sbaglio 3-2, era la prima Inter di Conte che andò a Marassi, però non c'è un precedente. Quindi Tiago Motta, insomma, mi sa che si è dimenticato un bel pezzo. Detto ciò, poi vedere quei due rigori vergognosi inondati, il primo, quello secondo me, a Roma. A Roma c'è un rigore clamoroso per la Roma. Lì Kiriakopoulos non solo travolge, ma dà un pestone importante a Baldanzi in area di rigore. Quello è rigore sempre. Non si può non dare il rigore del contatto Teo Hernández col Pani nel secondo tempo. Qual è un rigore clamoroso. Il grande Teo Hernández, che tra l'altro ieri festeggiava pure il compleanno, magari al posto di fare i gestacci alla Curva Nord e ai tifosi dell'Inter dopo il derby, magari sarebbe meglio rivedere un po' le sue ultime prestazioni, visto che sta facendo cagare in maniera allucinante. Ieri causa il rigore, quello doveva essere un rigore clamoroso, vergognoso non averlo dato. Causa il primo rigore sbagliato da Kane. Sbaglia il rigore dopo. Cioè, partita da due, quella di Teo Hernández ieri. E questi parlano della Marotta League, parlano dell'Inter, ossessionati che non perdono tempo per rompere i coglioni all'Inter. Ieri, veramente, Pairetto, secondo me, sotto la divisa gialla, aveva la maglia della Curva Sud, con scritto Intermerda, secondo me, perché è stata una roba vergognosa ieri. È stata una roba vergognosa. Una roba vergognosa che ha favorito il Milan, che però comunque, nonostante ciò, ha perso una partita meritatamente, perché la Fiorentina ieri ha meritato di vincere. Un'altra cosa che ci ha dato all'occhio è che il Milan è una squadra totalmente slegata, ma non soltanto per reparti, ma proprio in una maniera di spogliatoio. Cioè, un allenatore che abbiamo confermato noi facendogli vincere il derby a San Siro. Una squadra che è in netta confusione. Prendono il gol del 2-1 dalla rimessa dal fondo. Io non ho mai visto nemmeno in promozione, nemmeno nei provinciali. Prendere gol del genere dalla rimessa dal fondo. Conto Mori, che si mette a guardare il pallone, non sbaglia totalmente l'intervento, sbaglia il tempismo per colpire di testa. E Ken neanche gliela passa. Ken la stoppa soltanto di petto. E Gudmundson poi sgancia la bomba e la mette in porta. Ma Gudmundson non doveva mica avere il processo, scusatemi. Ma perché siamo al 7 di ottobre e a quanto pare le ha giocate tutte. Ma sta cosa del processo che finì ha fatto? No, chiedo. Perché, vabbè. Comunque, insomma, una... A parte tutto, cioè, veramente... E poi la cosa che viene all'occhio è vedere quando viene assegnato il rigore al Milan come subito Tomori prenda il pallone per darlo al suo amico Abram. e di secondo rigore chiaramente assegnato al Milan sto parlando e questo fa capire che confusione ci sia proprio nella gestione di Fonseca. Un allenatore che non ha la chiara idea di chi siano i rigoristi dei ruoli assegnati ai giocatori cioè, come fa a non essere rigorista Pulisic, l'unico giocatore che sta tirando la carretta del Milan in questi due anni. Cioè, non che stia facendo imprese clamorose perché alla fine fa la differenza contro Venezia, Lecce e squadre di media o bassa classifica però vergognoso come non ci sia proprio una gestione dei ruoli per quanto riguarda l'assegnazione dei calci di rigore. Cioè, lo tira Tevernandez che abbiamo visto il risultato. Lo tira Abram che l'ultimo gol che ha fatto a parte quelli lì col Venezia l'avrà fatti quattro anni fa con la Roma di Mourinho. Un attaccante vergognoso Abram quello si è sempre saputo io sono stato il primo a dire che fosse un pippone quando è arrivato alla Roma e la gente se la prendeva con Mourinho. Sei davanti a un attaccante che su otto palle gol prende la porta su quattro occasioni ci sarà un cazzo di motivo. Detto ciò, quindi fa vedere quanto sia un gruppo disunito perché non è normale vedere un giocatore che si alza a prendere il pallone in aria e darlo al suo amico Abram estromettendo così Pulisic che è stato uno dei migliori in campo del Milan che ha fatto tra l'altro un grandissimo gol. Quindi un Milan polveriera e questo si sa da sempre una squadra ridicola come atteggiamento come gestione dell'allenatore e appunto per questo sta gente qua che si mette a parlare del rosso di Maripan che è clamoroso netto non si può dire altro beh qualcuno dovrebbe magari dire qualcosina sulla sull'arbitraggio di ieri io non sento nessuno scandalizzarsi sulla vergognosa direzione arbitrale di ieri fischia un fallo a Ken al secondo tempo che non esiste mai Ken va di fisico a centrocampo e fa partire la ripartenza e viene fischiato un fallo vergognoso ha ragione palladino a incazzarsi e viene buttato fuori palladino un arbitraggio a senso unico a senso unico a favore dei rossoneri e questa cosa non è la prima volta che siamo obbligati a vedere l'anno scorso hanno fatto di quei punti veramente che l'ufficio inchieste sta ancora cercando le pratiche i miei i miei video sul come si dice sui dossier arbitrali sono ancora lì da vedere e quindi c'è qualcosa che non ci vogliono dire a prescindere poi dalla partita dei Gobbi cioè lì veramente anche lì come si fa a dire partita rubata cioè il primo tempo la Juve ha giocato abbastanza bene mezz'ora del primo tempo poi nel secondo tempo la Juve non si è vista dalle parti dell'area di rigore del Cagliari cioè il Cagliari nel secondo tempo ci ha messo più grinta lottava su tutte le seconde palle e il pareggio secondo me è anche meritato poi se ti vai a mangiare certi gol davanti alla porta come quello di Vlaovic non sarà magari solo colpa dell'arbitraggio chiedo per un amico e poi l'arbitraggio è stato vergognoso anche quello quasi a senso unico è vero lì forse c'è un mezzo rigore su Savona per la Juve ma vogliamo parlare dei due interventi quello di Gatti sul rigore che non esiste mai quello semmai è fallo di Gatti che va a spingere a due mani a Ugello e poi con la gomitata gli mette il gomito dietro al collo calcione entrata da dietro e viene assegnato al rigore al Cagliari alla Juve scusatemi cioè vedere i due interventi quello di Gatti al terzo minuto che va soltanto sul sulla cavi sullo stinco del giocatore del Cagliari quello è da rosso diretto senza neanche pensarci e devo sentire un Marelli che dice quello era giallo perché si sta parlando di un intervento fatto in avvio di gara ma di che cazzo stiamo parlando ma non esiste un commento del genere allora pure Maripan sabato fa quell'intervento al trentesimo allora andava graziato ma di che cosa stiamo parlando sono interventi da rosso anche se fatti al primo minuto ma non scherziamo no perché l'arbitro doveva garantire una gestione una gestione non esiste che l'arbitro deve garantire una gestione normale perché arbitrare non vuol dire che uno più uno fa due arbitrare non vuol dire neanche guardare i momenti della partita per giudicare interventi dalla loro gravità quello di gatti è rosso sempre la juve doveva giocare il secondo tempo in nove e aggiungiamo il rosso clamoroso diretto non dato a Kefrem Turam per un intervento identico a quello di Maripan sabato su Turam non è possibile e devo sentire addirittura certi gobbi che si scandalizzano dell'arbitraggio perché il rigore quello su piccoli non esiste non esiste Douglas Ruiz tra l'altro una sciagura 50-60 milioni buttati nel cesso ieri entra e fa pareggiare il Cagliari quello è un intervento da rigore oggi domani dopo domani si disinteressa del pallone prende soltanto piccoli e c'è gente che ha il coraggio di parlare e dire che quello non fosse rigore ora va bene tutto capisco che anche Adazon e parlo del signor Luca Marelli hanno tutti le magliette addosso cucite di bianco nero però ci vuole anche un po' di obiettività perché dire che quel contatto è un contatto al limite si dicono grandi cagate quello è un rigore che è netto oggi domani dopo domani solare se al posto di Douglas Ruiz ci fosse stato Mkhitaryan erano tutti a parlare di un rigore netto clamoroso come ha fatto a non vederlo subito il rigore clamoroso netto lo fa Douglas Ruiz ma siamo al limite ma bisogna vedere dalla ripresa ma no non scherziamo non scherziamo quindi bisogna dire le cose come stanno poi per quanto riguarda la partita insomma ieri della Fiorentina c'è anche da dire che palladino ragazzi mamma che allenatore cioè i rigori li fa battere a Ken che non è assolutamente l'uomo più indicato per battere i rigori Gudmundson il primo perché non lo tira non lo so c'è anche quello lì veramente da vedere Ken che ha fatto una buona partita si è mangiato due gol clamorosi di cui il secondo poi da solo davanti alla porta la spara alle stelle insomma bel gol di Adli però ecco una partita ecco che dal punto di vista tecnico ha peccato un po' detto ciò concentriamoci sul sul vero argomento cruciale dell'edizione giornaliera ovvero la nostra inter ovviamente capiamo ecco che disparità di trattamento ci sia perché se l'episodio di Tomori che prende la palla e la dà ad Abram per battere il rigore e stromettendo così Pulisic l'avesse fatta a Cerbi per Lautaro faccio un esempio ai danni di Cialanoglu ne avrebbero parlato praticamente anche su Marte quindi vi fa capire la disparità di trattamento sarebbero andati avanti a parlare per cinque giorni per tutta questa sosta invece non ne parla nessuno di quello che è successo ieri sera a Firenze quindi vi deve far capire quanto quest'anno saremo obbligati a lottare ancora contro certe ingiustizie mediatiche che dobbiamo subire costantemente e questo vi fa capire anche come bisogna dare invece un altro occhio di riguardo alla vittoria contro il Torino di sabato perché è stata una vittoria importante ricordiamo che quelli che parlano con il Torino ci hanno pareggiato due a due in casa e meritavano di prenderne cinque perché le cose poi vanno dette e vanno chiarificate quindi una bella Inter che continua nonostante tutti i problemi fisici problemi di preparazione dovuti al ritorno scaglionato dell'europeo ricordiamo che l'Inter è la squadra che ha avuto più giocatori impegnati in quest'estate con le nazionali di Italia ed Europa insieme al Manchester City il Milan non ha avuto tutti quei nazionali quest'estate la Juve non li ha avuti il Napoli non ha avuto quasi nessuno di quelli convocati per l'europeo Copa America quindi bisogna anche dire questo dato che tante volte qualcuno passa inosservato ci aspettano dopo la sosta partite fondamentali tutti i scontri diretti 20 ottobre Roma-Inter 23 ottobre durante la settimana si va a Berna contro lo Young Boys partita non da sottovalutare perché è un campo ostico e un catino infuocato il 27 c'è la Juve a San Siro poi devi andare a giocartela a Empoli che non è facile poi hai il Venezia in casa dove si può rifiattare un po' di più e poi dopo il Venezia hai l'Arsenal a San Siro e dopo l'Arsenal devi giocare contro il Napoli 10 di novembre quindi un calendario molto fitto che però allo stesso tempo oltre a metterci in difficoltà ci dirà chi siamo perché dopo la sosta con il ritorno di Barellino e il rientro speriamo che non vedo l'ora di vederlo in campo di TJ Buchanan si vedrà un Inter che darà risposte darà risposte sulla stagione che vedremo e ci abituerà a capire che Inter vedremo quest'anno e chi siamo in questa stagione quindi è importante approcciare al meglio questi big match di fine ottobre perché sono partite che daranno risposte sia al mister ma anche a noi il mister le risposte le ha avute in questa settimana pre-sosta perché è stato capace di roteare al meglio le quattro punte portando a casa tre vittorie in sette giorni nessuno lo dice ma il mister cambiando sempre tutte le coppie offensive porta a casa punteggio pieno in una settimana si vede un turam ovviamente sugli scudi che se continua con questi standard range di prestazioni io non mi stupirei se a fine stagione ti arriva a bussare alla porta il Paris Saint Germain che non ha ancora praticamente trovato quel degno sostituto di Mbappé quindi io non mi meraviglierei se a fine anno se dovesse continuare su questi standard ma è molto plausibile non mi meraviglierei anche un Paris che ti viene a bussare la porta e ti chiede Marcus Turam a un prezzo anche molto alto quindi la prima cosa che mi viene in mente è togliere la clausola a Marcus Turam togliere assolutamente la clausola di 90 milioni a Turam perché potresti incappare in 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 un non dico un problema ma in una situazione diciamo un po' anomala perché a Parigi i soldi ce li hanno quindi visto che si è parlato di questo interessamento del Paris Saint Germain molto importante molto fondato fosse la dirigenza dell'Inter io toglierei nella maniera più assoluta la clausola al Ticus una vittoria del canale Marcus Turam sempre sostenuto nel soltanto nel bene in tutte le situazioni che ha affrontato Marcus fin dalla preparazione dell'anno scorso che c'erano certi tristoni ignoranti che adesso si permettono di criticare Taremi quando in realtà neanche quattro giorni fa con la Stella Rossa lo idolatravano sbaglia il gol con il Torino adesso diventa ancora un pippone cioè per farvi capire che ignoranza gira e questi erano gli stessi che dicevano che Turam aveva paura di tirare che non era un vero nove che non si sa intendere bene con Lautaro invece che ha dimostrato la scorsa stagione che Lautaro non ha mai avuto un partner d'attacco così complice e così fondamentale negli scambi nello stretto come Marcus Turam quindi ennesima sconfitta amara dei tristoni e di questo noi ne andiamo fieri e ne godiamo sempre adesso la gazzetta oggi dice è partita la rincorsa al Napoli non esiste una rincorsa al Napoli cioè nel senso che siamo alla settima giornata il Napoli ha vantaggi che le altre non hanno una di queste non avere la Champions il secondo vantaggio è aver avuto una preparazione importante senza giocatori in giro per l'Europa terza costante a favore del Napoli è che adesso il Napoli è un ambiente un po' più allegro perché col fatto che non hanno risolto la pratica Osimè ma comunque adesso è al Galatasaray in prestito dove il Napoli ci ha berucciato non so quanti soldi lì operazione veramente deleteria da parte di De Laurenti se poi la gente parla del mercato dell'Inter e si permettono di dare giudizi però un Napoli che adesso comunque anche per morale è una squadra che va avanti e soprattutto è stata avvantaggiata secondo me anche da un calendario che comunque non è stato così movimentato cioè Como Verona vabbè ne hanno presi tre ma vabbè era la prima non si potevano dare giudizi Monza cioè comunque hanno giocato contro squadre che erano nettamente alla portata del Napoli che ha una grande varietà di singoli e Conte può permettersi di non fare turnover perché Conte si può permettere di non fare turnover e ha un parco attaccanti secondo me con un grande potenziale lasciamo perdere Kvarashkelia Neresh un Simeone e un Raspadori molto molto ritrovato che quest'anno farà bene con Conte che voleva quando era l'Inter tra l'altro insomma si sta parlando veramente di una squadra che poi apre l'arrivo di McTominay che è un grandissimo centrocampista secondo me uno dei migliori colpi che ha fatto una squadra italiana in questa sessione di mercato perché secondo me uno come McTominay in Italia fa la differenza e l'hai visto in queste prime partite poi c'è da dire che però non si vede ancora quella amalgama del vero gioco di Conte perché comunque con il Como è vero il Napoli vince però nel primo tempo il Como ne ha avuto di occasione di pallegol cioè il Napoli dopo il gol di McTominay al primo minuto poi si è un po' adagiata ha voluto provare diciamo ad andare subito in ripartenza il Como ha gestito la partita il Como aveva il pallino del gioco dalla sua al primo tempo poi certo nel secondo tempo si allungano le squadre il Napoli è più forte nell'individualità e poi si trova il 4 a 1 però anche la partita con il Cagliari di due settimane fa tre settimane fa il 4 a 1 è un risultato anche lì bugiardo perché il Cagliari veramente nel secondo tempo aveva avuto tante occasioni per portare la partita sul pareggio ma anche portandola sul 2 a 1 vabbè con la Juve quello 0 a 0 lì senza emozioni e poi con il Monza settimana scorsa voglio dire è una partita che comunque Conte non sbaglia Conte con le piccole non sbaglia non perdona niente questo lo sappiamo però adesso ad avere una squadra che dal punto di vista della forma fisica sta prendendo grande grande amalgama un Turam che andrà lo stesso in nazionale però nessun pericolo per la caviglia lui aveva detto che si era girata e in zaghi temeva qualche settimana di stop invece nessun problema non c'è assolutamente nulla dalle lastre fatte la scorsa giornata ma è un attacco che dal punto di vista fisico e mentale macina gol in questo momento della stagione prenderà il decollo prenderà il decollo perché vabbè Lautaro anche quando non segna è un fattore determinante per il gruppo Turam sette gol in campionato quasi uno in ogni partita da statistiche anche se magari li ha un po' li ha un po' proporzionati distribuiti diversamente perché ha fatto doppietta alla prima doppietta con l'Atalanta tripletta con il Torino e poi si è fermato a Monza e a a Udine al derby però comunque arrivare a sette gol in testa la classifica cannonieri con Reteghi insomma ha sfruttato veramente quelle occasioni importanti nel soprattutto nel gol che non ci aveva abituato l'anno scorso cioè Turam l'anno scorso io non ricordo questi gol di testa ma veramente di istinto killer davvero bomber davvero a prima punta e Turam non è una prima punta Turam nasce come esterno è un attaccante straripante fisicamente tecnicamente molto forte i gol dell'anno scorso lo possono testimoniare soprattutto quelli nei due derby però non ti aveva abituato a vedere certi gol con quella cattiveria agonistica con quel tempismo perfetto negli inserimento tra i due centrali cioè il secondo gol che fa sabato è un gol attaccante vero e anche il primo è clamoroso però lì vabbè bel gol un po' una dormita difensiva del Torino ma è un bel gol lo stesso ma il secondo è veramente veramente monumentale perché il secondo gol si va a prendere una palla difficilissima di testa e la schiaccia nell'angolino un gol veramente difficile che a cui non ti ha abituato l'anno scorso l'anno scorso tu non vedevi un Turan fare certi gol stessa cosa le due zampate con l'Atalanta si è vero ne aveva fatta una a Napoli l'anno scorso però non di questo livello non di questo livello non con quella con quella rapacità in area nel colpire la palla in quella maniera e quindi proprio perché nel video prepartita di Inter Torino dicevo ci vuole un attacco bestiale ci vuole un attacco bestiale e ci è voluto un attacco bestiale per vincere contro un Torino che si è schiacciata tutta dietro 6-3-1 a un certo punto era la formazione di Vanoli era un 6-3-1 quindi è una partita e poi certo tanti pareri discordanti è vero in difesa bisogna migliorare io sono convinto che il mister però in questa sosta con i ragazzi che rimarranno alla pinettina Carlos Augusto Pavard non convocato e di questo ne godiamo tutti chiaramente Acerby l'ha convocato non lo so penso di sì però insomma vedremo adesso secondo me un cambio generazionale soprattutto nella fase difensiva perché sono errori ripeto ancora dovuti secondo me quello di Udine è più un errore di Bissec sul primo gol e un errore di Acerby nel secondo gol perché lì si si immola in avanti perde tutte le staffe perde tutto lo schema difensivo regala quella palla lì a Luca che poi va a segnare da solo in ripartenza con Ciananogo l'ultimo uomo quelle sono amnesie che non ti puoi assolutamente permettere di avere e però invece nei due gol presi in 10 contro 11 ed è quello secondo me il fattore più preoccupante che è stato da prendere due gol in inferiorità numerica poi anche lì adesso sento gente come il pappagallo ama con Conte certi gol non li prendevamo io mi ricordo partite con Conte soprattutto quella col Bologna che ci fece perdere lo scudetto del covid perché quella partita lì è stata una partita veramente veramente disastrosa che ci ha fatto perdere lo scudetto insieme a poi altre a tre di Gagliardini che sbaglia porta vuoto a prendere la traversa ma la partita con il Bologna di Conte che perdiamo 2 a 1 quella è vergognosa lì vai a prendere due gol su due tiri da fuori in 10 contro 11 ti fai schiacciare l'ultima mezz'ora e chi c'era in panchina lì non c'era Inzaghi fenomeno di un pappagallo che non sai altro eh chi è che c'era 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 il signore il signore Antonio Conte da Lecce in panchina lì non c'era Inzaghi quindi smettiamole di dire certe cagate sbagliando sapendo di sbagliare perché lui che è un contiano di merda no ma non di merda perché è un contiano di merda perché non capisce niente di calcio sa benissimo che si è perso col Bologna in casa durante il covid prendendo due gol in 10 contro 11 quindi smettesse di fare il professore perché non ne capisce niente quindi non è una questione di se c'era quale o se c'era quell'altra è una questione che tu prendi quei due gol lì per errori di posizionamento il primo perché Bisse è che lì sbaglia il passaggio ma non si può essere così alti e festeggiare in campo quasi dopo il gol del 2 a 0 bisogna sempre mantenere un po' di rigore e lì Darmian non può essere così spostato in avanti sul contropiede sull'azione di Zapata che fa un bellissimo gol sbaglia anche a Cerbi come sbaglia Frattesi che non fa filtro a centrocampo e fa ripartire il Torino e crea quella palla in area quella situazione offensiva del Toro che poi costringe C'era Noglu a peccare lì di ingenuità e causa il rigore al Torino quindi è una questione di posizionamento che si che sbaglia la difesa ma non è che sbaglia nei singoli sempre sbaglia anche il centrocampo che non fa filtro quindi sono tante colpe da dividere e questa è una cosa su cui il mister sono sicuro che lavorerà in questa sosta per preparare meglio le partite importanti che ci aspettano post nazionale Roma Young Boys Juve un calendario fito che ci dirà chi siamo sempre forza Inter amala sempre mi raccomando iscrivetevi tutti al canale e in questo in queste settimane tristi di sosta vedremo ecco di cosa parlare detto questo mi raccomando ragazzi sempre attivi sul canale ciao ragazzi forza magica Inter grazie a tutti